Puguele! 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 Scommettiamo che anche quest'anno una poltrona per due invaderà la nostra vigilia di Natale ma ovvio che sì, le tradizioni vanno rispettate e il film viene trasmesso ogni anno dal 1997 ma oggi vi stupisco tutti conosciamo Eddie Murphy come attore con il suo umorismo e la sua inconfondibile risata a frutto del genio del grandissimo doppiatore Tonino Accolla Ehi! Che belle bollicine! Quando ero piccolo per fare l'idromassaggio sparavo certe bombe dentro la vasca Che bello! Eppure Eddie Murphy negli anni 80 a cavallo tra un Beverly Scope e un principe cercamoglie sforla una hit di successo con Rick James uno che di hit se ne intendeva davvero E quindi Eddie incide Party Old Time che diventerà un successo discografico commerciale, leggero, non rock chiaramente ma approvato da critica e pubblico e che vi farà conoscere Eddie Murphy anche in un'altra peste e che vi farà conoscere qui vi farà conoscere i know Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti